Macchina che sta per staccare, partiti, c'è lotta per il comando con Odisseu Sovi che cerca di contenere Ololai, all'esterno veloce anche Marozzi a Deymar, più indietro c'è Melodi Dechiari, sulla piegata Odisseu Sovi in vantaggio, Ololai è all'esterno con largo Marozzi a Deymar che insiste, più indietro Morango Xallacorna Mesher Smith. 200 iniziali in 14,7 con Odisseu Sovi che si mantiene leader, all'esterno è Marozzi a Deymar, alla corda c'è Melodi Dechiari avanti a Mesher Smith, all'argo anche Ololai, poi Morango Xallacorna, 400 iniziali che se ne vanno con il leader che li percorre in 29,3 in vantaggio Odisseu su Marozzi a Deymar che deve adeguarsi all'esterno, scoperta mentre alla corda c'è Melodi Dechiari che precede Mesher Smith, poi Ololai e Morango Xallacorna. Morango Xallacorna che vede i primi 600 in 45,6, ora potrebbe diventare più tattica visto che passano i primi 4, c'è Morango Xallacorna però che muove dalla coda. Dopo 700 metri di gara la terza corsia di Morango Xallacorna che va a muoverle acque con un giro iniziale in 1,1 e 2, Morango si spinge in terza corsia all'attacco della piegata con Marozzi a Deymar che rimane comunque in seconda pariglia. Lato sbaglia Morango Xallacorna a 700 dalla conclusione e così Marozzi a Deymar è sempre all'esterno, supera ora Melodi Dechiari quando siamo al chilometro in 1,15,8. Odisseu Sovi in vantaggio Marozzi a Deymar che prova ancora a spostare all'esterno, poi Melodi Dechiari, Ololai e quindi Mesher Smith 400 alla conclusione. Tenta la puntata in avanti Ololai ora su Marozzi a Deymar che si è accodato in seconda posizione, più indietro Melodi Dechiari e Mesher Smith superata la metà della curva finale con Odisseu Sovi che allunga ancora, Marozzi a Deymar che rimane comunque in quota, poi Ololai completamento della piegata, 15 parziale, cerca di andarsene Odisseu Sovi da Marozzi a Deymar che è ancora ottima seconda e nel finale Odisseu Sovi viene a vincere, secondo posto per Marozzi a Deymar al terzo Ololai, al quarto finisce Mesher Smith, 1,15,1 con 29,7 ancora a chiudere. La vittoria netta per il favorito Odisseu Sovi, Alfredo Galeazzi in Salchi per il training di Giorgio Carini. Grazie.